Quattro persone. Solo? Oddio. Porche C4, pensavo fosse un'arma. Non, 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 non. Fatto. Ti do un giuccellone. C'è ancora qualcuno? Non lo so, non so se si. Quanti ne hai ammazzati tu? Uno. non so se loro hanno ammazzato gli altri due c'è un approvvigionamento qua è quello che avevo visto del 3 km che nessuno l'ha preso ci andranno tutti adesso che avevo visto ancora quando eravamo a vorrebbe tipi l'ho lancia grazie ce l'hai fatto col chimico costruito oh oh costruiscimi però dimmi dimmi non capisco che attacca chi stanno attaccando un po' lì che stanno costruendo l'areme a destra si ma e la sono in tre quali la sinistra probabilmente quello che ho colpito a sinistra è un po' l'altro 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 e che francesco e Grazie a tutti. Bisogna assolutamente di munizioni, purtroppo me... È crashato il party, adesso non sento più pippo. Grazie a tutti. Che cazzo mi ha costruito davanti? Ottimo. Grazie a tutti.